Come ogni anno, anche quest'anno, la provincia di Isernia ha promosso l'ormai tradizionale appuntamento canoro con il concerto della formazione corale della Cappella Celestiniana di Isernia, con l'esecuzione di brani per la maggior parte tratti direttamente dal repertorio gospel e spiritual. Il gruppo vocale, guidato dal maestro Fabio Palumbo, ha condotto il pubblico nelle atmosfere tipiche delle musiche afro-americane con il testo religioso cristiano che solitamente gli schiavi neri cantavano a Dio per alleviare le sofferenze della loro condizione. E restiamo in tema con il coro polifonico maschile Amici del Canto, diretto da Domenico Tortola. Il gruppo è nato qualche anno fa a Castel Romano, dall'idea di alcuni amici del posto, per non perdere la vocazione naturale del canto corale. Il coro si è esibito nella chiesa madre di Macchia di Isernia, con un repertorio che ha spaziato dai canti di montagna e popolari a quelli della tradizione sacra. Il coro di Castel Romano ha avuto già modo di esibirsi in numerose occasioni, uscendo spesso e con successo dai suoi confini della frazione di Isernia.